bene ragazzi allora ci siamo ci siamo siamo di nuovo in diretta scusate il ritardo otto minuti di eh ritardo allora fatemi sapere se ci siete tutti se vi arriva il segnale siamo in diretta io ho eh la mia tazza nera con il il tè e quindi aspetto voi ragazzi come eh come va l'audio tutto ok? Datemi conferma e ci siamo ciao ragazzi ciao ciao Giorgio eh ciao Gianluca Gianluca due eh insomma benvenuti tutti quanti benvenuti ciao Riccardo eh e e ovviamente ehm allora eh sì sì ci siamo tutti già arrivano e stavo leggendo già le vostre i vostri messaggi insomma con i vari eh i i vari le varie domande già operative allora intanto come va eh siamo in eh questa fase un po' delicata e particolare del del mercato oggi vi faccio vedere una serie di di cose soprattutto parliamo di un livello eh molto importante di bitcoin che eh da un punto di vista anche del grafico mensile potrebbe essere eh molto rilevante ragazzi quindi vi faccio vedere questa cosa eh perché potrebbe cambiare veramente proprio tutto quello che è l'esito dei prossimi mesi sul mercato oggi eh un po' abbiamo stornato quindi la news ehm di ieri insomma della scampato pericolo con la questione diplomatica e tutto il resto è stato un doppio fake quindi fake la paura e il fake anche l'annullamento cioè nulla di fatto ragazzi in sostanza vedete come le news in generale nonostante in questo caso insomma parlavamo anche di eh questioni veramente rilevanti di eh politica non hanno cambiato assolutamente nulla per quanto riguarda eh l'esito eh in generale dei mercati che sono rimasti oscillanti intorno agli stessi prezzi questo perché news eh non non hanno veramente eh alcun impatto sui mercati nel nel breve lo possono avere nel medio lungo praticamente zero assolutamente va bene allora eh ragazzi intanto o eh fatemi sapere un po' o qualche domanda tirate su perché oggi è una live un po' più a braccio visto che da ieri che sono in live eh vi devo aggiornare su un paio di di cosette e poi vedremo anche CRO perché Crypto.com eh ancora una volta eh è secondo me eh messa benino dal punto di vista di analisi vi faccio vedere dei livelli e soprattutto un livello che secondo me potrebbe dare maggiore impatto a Crypto.com ma è ambivalente ragazzi la questione perché se da una parte abbiamo ehm una crypto che eh essenzialmente da sempre è mh posizionata bene eh diciamo sul sul mercato anche perché dietro le spalle sono copertissime no? Però è anche vero che eh subisce in maniera estremamente rilevante quello che è eh l'atteggiamento dell'intero mercato quindi giustamente è penalizzata moltissimo dal mercato quindi vedremo anche quella eh poi vedremo un po' di crypto che andate a chiedere in questo video ragazzi va bene? Allora eh intatto vediamo qualche domandina rispondiamo a qualche domandina e poi ci abbiamo ah ecco Paolo questa è del corso ragazzi a proposito poi vi do un aggiornamento ieri abbiamo fatto il webinar con eh tutti gli iscritti questo webinar esclusivo per gli iscritti è stato fantastico ci siamo divertiti poi conosciamo in pochi sempre diciamo che voglio Paolo intanto benvenuto sulla progetto training on eh quando consigli entrare in Academy a metà del percorso quindi quando hai eh già studiato metà del percorso entra in Academy perché poi devi iniziare a fare learning by doing e quindi eh studiare eh diciamo ehm sempre eh la teoria non è proprio il massimo quindi devi accostare poi teoria pratica in Academy siamo sul pratico quindi metà percorso entra in Academy va bene ciao Mario cosa ne pensi di xrp la cosa dovrebbe essere andare a favore di srp a breve la causa quale causa Stefano xrp la riguardiamo ma non mi sembrava messa benino qualche tempo qualche tempo fa quindi poi la andiamo a rivedere ciao Mario stando fermo che ho sempre veduto il processo CRO se mi permetti la domanda vorrei chiederti cosa ne pensi di mo bobby ox ciao Rino non ho idea di cosa sia a massimo possiamo andare a vederla vi fate sempre domande di cripto ehm insomma che eh diciamo appolzano anche molto piccole quindi ricordatevi che io non parlo mai di progetti appena nati eh la questione Wonderland mi ha dato estremamente ragione quest'anno perché eh come eh avete visto poi i progetti appena nati hanno un altissimo livello di rischio quindi sono pericolosi quindi a volte è giusto parlarne però eh bisogna anche ricordarsi di quello che si che si rischia quindi io vi parlo sempre di qualcosa che conosco molto bene come le mie tasche e e quindi se non la conosco non non posso dirvi allora Danilo intanto è fantastico mi sono appena iscritto al basic oh sono contento benvenuto anche tu eh siete tantissimi intanto vi aggiorno ragazzi in pratica eh il vi faccio una break news insomma un viscillo diciamo il il percorso it's training time perché ieri nel webinar che abbiamo fatto oltre all'analisi di bitcoin eccetera che era esclusiva per gli iscritti abbiamo anche parlato dei percorsi e trading on che cambiano radicalmente dopo quattro anni ragazzi di formazione e di trading ad altissimo livello tra le altre cose l'academy altissimo livello la migliore academy d'italia sicuro relativamente alla parte professional sulle cripto quindi di alto profilo quindi per trader pro ehm cambiamo tutto cambiamo tutto e aggiungiamo un botto di roba ragazzi praticamente c'è un super upgrade eh gigantesco che ci saranno nuovi contenuti sui corsi l'academy ha eh avrà una nuova categoria dedicata alla DeFi con tutti i tutorial di un nuovo corso della DeFi tutte le strategie advanced abbiamo creato una struttura che sarà un ibrido tra trading system analisi discrezionale con l'holding e poi le strategie DeFi praticamente il top di tutto quello che la parte investing e trading regata al mondo cripto cioè in questo modo noi chiudiamo praticamente tutti i tutti questi upgrade della roadmap del 2022 per l'ecosistema trading on che andrà a completarsi addirittura con probabilmente la ehm il lancio di un NFT che darà accesso a mille cose differenti che stiamo pensando in questo momento tutto questo ecosistema ragazzi eh verrà poi rilanciato probabilmente a marzo aprile e e quindi da qui al 20 di febbraio si può accedere utilizzando i corsi quindi per chi gli vuole hanno fatto i corsi poi il 20 chiudono tutti i corsi chiudiamo tutto ragazzi il 20 perché eh poi i prezzi si si alzano sensibilmente ecco questa era la questione quindi ho ho ci ho tenuto a fare il cosiddetto webinar ieri proprio per dire a tutti eh questa cosa come l'ho l'ho fatto l'anno scorso quando abbiamo parlato dell'academy vi ho detto l'ultima chiamata avviene anche sui corsi perché vogliamo modificare tutti anche i corsi vanno ristilizzati li ho fatti nel 2018 ragazzi era un pischellino eh soprattutto insomma hanno bisogno di editing di essere rifatti aggiungiamo gli esercizi quindi eh adesso si possono però comprare un prezzo veramente veramente molto favorevole ragazzi perché poi non ci sarà più quindi io in descrizione vi lascio comunque il link eh avevo fatto dei coupon per i primi venti sono finiti in pochissime ore praticamente ragazzi adesso li ho riattivati domani faccio un annuncio se li riattiviamo perché c'è un problema bisogna mettersi d'accordo con l'azienda chiedere al marketing se ci dà l'ok e tutto il resto non è sempre facile queste cose eh io sono un portavoce no e quindi eh va bene però eh insomma eh al momento sono riattivi però praticamente questi coupon sono andati via come il pan sono molto contento ragazzi sono molto contento di questa cosa quindi io eh vi invito chiunque di voi adori la formazione eccetera entrate ora nel percorso perché dopo vi costerà molto di più e tra le altre cose per quello che stiamo cercando di fare è veramente un'occasione da non sprecare quindi questo per racchiudere eh tutto il discorso andiamo però a vedere quello che sono i i livelli quindi la analisi di bitcoin vi faccio vedere eh intanto io partirei dall'analisi di bitcoin poi guardiamo CR e facciamo una serie di considerazioni eh e poi andiamo a spulciarci la questione eh di altre cripto che mi domandate per esempio molti mi hanno chiesto di da Cardano e Luna ragazzi su Luna ho scritto un'analisi ieri eh sul canale telegramma gratuito link sempre in descrizione è già stata chiusa in profitto perché era un long su Luna di breve periodo eh sto testando una nuova strategia eh con trading di breve periodo eh e insieme diciamo ai miei collaboratori relativamente ai sistemi di trading automatico eh e credo che la renderò disponibile in Academy a brevissimo anche questa cosa va bene allora allora mi chiedete anche sempre la questione di Terra UST ragazzi allora Terra UST è diventata eh la prima stable coin di cui si fa richiesta di informazioni cioè in pratica su Terra ne parliamo dopo comunque eh anzi facciamo una cosa parliamo direttamente di quello che penso io relativamente alla questione Terra UST eh il problema che tutti mi chiedete eh informazioni cosa ne penso di Terra UST Jacopo è legato al fatto che eh praticamente moltissimi hanno paura che questo progetto fallisca perché si monta su un castello di carta è inutile che ci prendiamo in giro poi bisogna capire se il castello di carta regge e ha le fondamenta per reggere in questo caso io penso che le fondamenta le abbia però la questione che moltissimi analisti moltissimi trader moltissimi investitori nel mondo cripto si vanno a domandare eh se può reggere una stable coin è veramente eh significativo ragazzi perché è una stable in teoria quindi in teoria dovrebbe essere lì come non un investimento ma qualcosa di tranquillo allora io la domanda però ve la faccio no? Allora ci sono due modi di vedere le cose lato cripto eh entusiasta e quindi amante del settore cripto via vai con USDT USD scusate per tutta la vita perché bisogna sperimentare creare nuovi eh nuove cripto gli algoritmi che sono fondamentali per dare spazio di creare leveraging nel futuro creare nuovi ecosistemi come Terra e tutto il resto quindi l'amante delle cripto eh ti dice che questi progetti sono il top perché ci vogliono questi progetti poi però dal lato investitore eh la domanda è perché io devo avere una stable coin di cui preoccuparmi addirittura se perdo non perdo cioè è significativa questa cosa ma che bene fate se avete paura di USD andatevi a prendere Titer la mettete a rendita lo stesso non sarà il 19 di eh Anchor ma è eh arrivate anche al 18 vi ho fatto vedere gli held up per esempio in in eh cefi quindi la la sefai addirittura che vi dà il 18 cioè il problema è per quale motivo un investitore deve avere nel portafoglio una stable coin di cui si debba preoccupare cioè questa è una stable coin ragazzi non ci guadagnate niente da questa stable coin cioè niente cioè l'unica cosa che potete fare è averci il 19 per cento benissimo sarà una rendita che tra l'altro non sarà minimamente mantenuta nel corso dei prossimi mesi è ok è una stable tutto qui quindi se avete paura di detenere una stable intanto già questo è molto significativo ma se eh eh diciamo avete paura cambiatela eh cambiatela prendetevi Titer prendetevi USDC la mettete a rendita poco poco più bassa ma cioè che vi frega poi dei due punti e mezzo eh dei quattro punti di più di Anchor per i tre quattro mesi che ci c'è capito allora questo è il concetto poi il progetto dietro le spalle c'è i grossi investitori sono il top tutti quanti i grossi programmatori funzionano molto bene assolutamente stanno lanciando un botto di roba legata alla questione degli nft c'è dietro un mondo che sta per arrivare che su terra funzionerà non funzionerà ma non è che ne beneficia gli USD di questo ne beneficia l'una al massimo ok quindi se voi fate gli speculatori andate su l'una se voi fate gli investitori che volete stare eh protetti e se vi prendete terra USD o credete nel progetto e quindi non vi fate il problema se crolla o non crolla oppure eh ve la cambiate con un'altra stable perché l'una eh perché terra USD ragazzi è una stable coin non ci guadagna niente un tubo da quella stable coin state solo prestando soldi a qualcuno è come un'obbligazione tutto qui mh avete qualche punto percentuale in più ma l'investitore può dire ok c'avete 100k su terra eh UST divideteli vi fate 20k su terra UST 20k eh su su UST eh Tether poi mettete dai poi ci mettete eh USDC avete creato un portafoglio diversificato di stable coin li mettete lì avete ridotto il rischio massimizzato i rendi venti per il rischio che ottenete fine dei giochi anche qui ragazzi è una logica da investimento non perdete tempo a ragionare su una stable coin perché è una stable coin allora se noi vogliamo andare a ragionare in termini di progetto questa è un'altra cosa però non è investimento ragazzi è una stable coin perché vi state comprando dollari tra le altre cose si potrebbe anche dire che è una stable prezzata in dollari si svaluta insieme al dollaro quindi cioè come noi diciamo sempre che la fiat la moneta fiat e carta straccia teoricamente lo sono anche le stable coin quindi in teoria ok ci danno un rendimento di gran lunga superiore alla svalutazione del dollaro e su questo ci siamo però siamo sempre in quell'ambito lì nell'ambito fiat non siamo nell'ambito cripto non siamo nell'ambito bitcoin non avete bitcoin non avete ethereum non avete uno store of value prendendovi una stable coin avete un qualcosa che vi protegge dalle oscillazioni va bene eh spero di aver chiarito eh un po' tutto questo di discorso va bene quindi se vi mette ansia io direi di fare così eh dividete il portafoglio di sebro facciamo un video dedicato su come si gestiscono le stable coin e finiamo il gioco va bene altrimenti non non ne finiamo più comunque grazie Jacopo per la domanda perché è molto interessante eh andare a chiarire questi due punti di vista no l'appunto amante cripto con la questione invece investitore che non sono collegati ragazzi sono differenti io ho delle stable coin di non che non vi parlo mai e di cui non vi parlo mai perché non sono rischiose sono iper rischiose non è che è un investimento che ho messo lì perché voglio guadagnare il 19% all'anno ragazzi all'anno all'anno scherziamo sulle cripto cioè con leva a due lo fate in un giorno il 19% va bene quindi con un trade giusto lo fate in un giorno quindi non non scherziamo su queste cose se prendete stable per avere rendite rendite devono essere e per voi percepite senti rischio cioè vi devono fare stare sereni e tranquilli poi tutto può succedere sono ci sono le cose straordinarie eccetera ma non si investe in una stable coin che vi fa stare in ansia va bene questo a perché non volete prestare soldi al progetto e in quel caso avete tutto la mia il mio applauso perché questo è giusto e io lo faccio spesso ragazzi però dividete le due cose va bene ok difficile fare questi discorsi è molto difficile ve lo assicuro allora andiamo a fare una bella condivisione dello scherzo che voglio fare vedere la questione bitcoin va bene allora intanto vedo anche una domanda sono più confidente a tenere euro dollari in portafoglio allora la differenza in pratica sarà al massimo l'uno due per cento nell'arco dei prossimi tre anni anche questa nessuna praticamente inutile rispondere a questa domanda perché non cambia niente cioè lo sai quanto è variato l'euro rispetto al dollaro negli ultimi dieci anni è un'oscillazione insignificante perché per un investitore normale il cambio euro dollaro è una parcelletta allora se andiamo di nuovo a 1,40 con cambi importanti ma non è così perché le politiche della federal reserve e le politiche della bce non sono più quelle di una volta quindi in sostanza si livellano tra di loro ciò significa che probabilmente da quei prossimi cinque anni le oscillazioni euro dollaro subiranno una app di massimo dieci punti minimo sotto dieci punti in cinque anni quindi cioè non mi faccio nemmeno il dubbio cioè non faccio proprio non ragiono su questa cosa se sono nel mondo cripto io resto in dollari perché hanno più volume i dollari tutto qua quindi insomma è questo il modo che secondo me insomma è più facile da fare ok intanto Daniele spara ma sul grafico del settimanale non risulta un testa a spalle se si a cosa prezzo dobbiamo stare attenti vediamo un bel grafico del settimanale di btc che dovrebbe essere questo qui eccolo qua allora grafico settimanale di bitcoin aspettate che eccolo qui dove lo vedi questo testa a spalle e tu intendi questa zona qui il testa a spalle questa m questa figurazione già chiuso quindi io non lo vedo questo testa a spalle mi piace che ragazzi uno due tre questo qui ma è già stato concluso questo testa a spalle in realtà è stato breccato e questo sarebbe il famoso pullback di questo livello della neckline del testa a spalle però non c'è un testa a spalle se sul settimanale lo vedi da altre parti scrivi perché non non mi pare insomma di vederlo un po' disegnato va bene ragazzi allora andiamo a noi perché voglio farvi vedere intanto quello che è il livello più importante che secondo me dobbiamo attenzionare nei prossimi giorni anzi direi anche nei prossimi tre mesi per quanto riguarda bitcoin e secondo me questo è un livello chiave ragazzi perché nella sua storicità bitcoin ha sempre mantenuto un prezzo al di sopra di questo livello della dato dalla media in tutte le fasi di uptrend sotto quel livello è sempre stato in bear market moltissimi dicono non siamo in bear market ed è vero perché tecnicamente non siamo in in bear market da un punto di vista statistico mancano le conferme del mercato orso non ci sono e questa conferma verrebbe data proprio al di sotto di questo livello allora vi faccio vedere uno che queste che sono le mie classiche medie in questo caso siamo su un grafico a un mese quindi è un grafico abbastanza diciamo imponente da un punto di vista di trend perché quello che vediamo in questo momento è proprio tutta la vita da quando abbiamo i dati storici del nostro amato bitcoin online e ok allora scusate ragazzi che c'erano gli spammer e blocchiamo insomma perché altrimenti nascondono i vostri messaggi allora da un punto di vista della dell'oscillazione di questa struttura che vedete in questa fase quindi tutta la vita di btc segue questo andamento che tra l'altro la cosa è molto molto significativa e molto simpatica perché in pratica abbiamo anche una specie di atteggiamento classico logaritmico no l'atteggiamento della curva che si va a livellare in termini di oscillazione vedete come sta andando questa cosa guardate un po qui adesso io disegno valissimo con il mio mouse però è proprio questa la struttura di bitcoin è anche qui che cambia un po tutta la logica la famosa questione legata alla stock to flow come si va a delineare lo sviluppo della criptovaluta quindi fasi di esplosione ragazzi probabilmente come queste qui che abbiamo visto nella prima parte già su questo grafico si vedono che sono estremamente inutili eh allora da un punto di vista invece di livello eh tutte le due aree di bear market che abbiamo avuto sono state eh indirizzate sono state sono avvenute al di sotto della media mobile a ventuno periodi tutte quante ragazzi queste due che abbiamo avuto ma poi è anche una questione logica non è soltanto un livello di analisi tecnica è un livello estremamente logico perché eh quando si va al di sotto di questo di questa zona chiaramente eh si è in una fase di mercato estremamente eh orso allora io voglio farvi anche però vedere un'altra cosa perché perché non è del tutto eh non è del tutto eh diciamo utile andare a utilizzare la media ventuno perché la media ventuno vi dà una conferma definitiva e ufficiale del famoso bear market però se noi andiamo a utilizzare l'altra quella che io utilizzo sempre cioè la media undici sul grafico vi dà una linearità eh di quello che invece è la struttura eh del trend più veloce quello eh che subisce magari un movimento eh di inversione in maniera più veloce allora qui abbiamo due visioni differenti perché abbiamo la visione di eh di una media che ci dice non siamo ancora in bear market però l'altra che ci dice stiamo andando in bear market quindi siamo al centro ragazzi vi faccio vedere qual è la questione ehm allora andiamo a vederla di nuovo ve la riattivo ragazzi mi confondo che ogni tanto leggo le vostre domande e mi vedete perché sono fantastiche alcune domande quindi le leggo volentieri allora guardiamo guardate dove siamo siamo in questa zona quindi siamo tra queste due medie tra queste due medie e anche questo mese vedete come il mercato si è andato eh perfettamente a inserire all'interno di queste due medie oscillando tra un minimo e un massimo perché è un mercato adirezionale però con il break avvenuto nel mese di gennaio eh di questa media a undici periodi undici mesi circa la media di un anno eh abbiamo in pratica eh indicato che il mercato sta andando si sta posizionando verso la fase di orso e questa è la vera pericolosità del momento possiamo assistere ancora secondo me uno shock rialzista ragazzi però eh abbiamo questo ciclo eh semestrale che potrebbe dare risposta ora vi faccio vedere le eccezioni a questa cosa però mh nelle normali situazioni quando siamo andati a confluire all'interno di queste due fasce di prezzo il mercato era già in direzionato nel bear poi la break della ventuno lo conferma definitivamente questo è il discorso quindi quando siamo in questa zona siamo in una fase di costruzione del bear market questo è eh quello che i dati ci dicono vedete anche qui nella bolla del duemiladici sette questa zona è stata la zona che ehm ha tenuto uno due tre quattro cinque mesi il mercato prima di andare a concludere tutto il movimento che poi è avvenuto in questa fase qui io mi ricordo benissimo questo mese tra le altre cose perché eh avevamo tutte le opposizioni operative novembre duemiladiciotto meno il quaranta per cento all'interno di un solo eh mese quindi queste due medie dovete stra utilizzarle eh ciao rob dice ottime sulle su mezze vai io lo so per tutto ormai non le nascondo a nessuno però c'è un'eccezione che è quella che stiamo giocando la partita che ci giochiamo la famosa questione legata a strange doctor strange della una possibilità su eh un milione o anche di più cioè il fatto che noi siamo finiti qui dentro e solo per la configurazione eh che si è andata a creare sulla questione ciclica e che da questa struttura se ne possa in realtà uscire con un break eh up non down questa cosa è possibile questo che vedete è il mese di marzo del duemilaventi quindi questo spike è eh assolutamente straordinario c'è si può vedere ragazzi però è a poca utilità andarla a considerare perché è dovuto alla pandemia quindi questo spike in questo momento non esiste eh per quelli che sono i dati eh statistici veri quelli che bisogna andare a guardare veramente non esiste questo dato qui eh quindi da qui vedete come si è andato a imbrigliare qui all' interno creando uno due tre quattro cinque mesi di eh oscillazione ma purtroppo uno estremamente brutto che è quello di marzo perché ragazzi oscillazione di marzo duemilaventi è stata molto brutta perché da minimo e massimo del mensile siamo stati a meno cinquattotto meno sessanta per cento questa è anche più alta quindi siamo a meno sessanta in un solo eh mese quindi se abbiamo una cosa del genere comunque ci scombussola ora siamo in questa fase qui intanto vedete come mh qualcuno di voi adesso si ricorda che io nel luglio duemilaventi su questa candelina eh praticamente ho fatto l'in no? Su 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 tutti i miei investimenti su bitcoin perché avevo accennato tutta questa cosa che vi sto dicendo oggi no? Sul canale e dicendo ragazzi a qui eh già era possibile partire però qui c'era un un unico dubbio che mi dava poi a luglio duemilaventi all in totale eh e qui insomma c'è stato proprio l'ingresso perfetto perché l'ingresso perfetto molti potrebbero dire è questo qui ma questo è impossibile prenderlo ragazzi a meno che ovviamente uno non si trovava io quella quella sera ero qui in diretta non dormivo ovviamente e sfido chiunque di voi era in diretta lì a dormire quel giorno lì eh però ehm andare contro trend in quel momento significa anche farsi male perché non sapevamo che sarebbe finita quindi assolutamente sbagliato mentre l'ingresso corretto era questo quello di luglio quello è è l'ingresso del del vero investitore ragazzi infatti vedete il mercato ha breccato la barra ha fatto il pullback e poi boom facendo questa cosa gigantesca va bene dove siamo ora e qual è il livello che può cambiare tutto di bitcoin intanto il livello che secondo me per tutto quest'anno noi dobbiamo tenere sotto stretta osservazione è quello legato ai ehm trenta eh tre trentadue ma poi quello di non ritorno sono i ventinove k ragazzi se arriviamo eh secondo me sotto questo livello andiamo a sfondare questa media a ventuno eh e bear market al cento per cento secondo me novantotto giusto perché poi se non mi prendete in giro ehm e poi mh da da lì in poi secondo me si subisce tantissimo soprattutto le altcoin quindi siamo in un anello come lo siamo stati le altre volte ragazzi quindi va bene la positività io sono stra positivo purtroppo vi dico sono dovuto rientrare long sul mercato perché i miei train system mi hanno ridato un long secondo me farlocco ve lo spiego secondo me è sbagliato questo log però io seguo le macchine perché in questi momenti anche io stesso tendo sempre a sbagliare perché arriva l'emotività eccetera quindi seguo delle strategie che ho preconfezionato mesi prima così non sbaglio però nel cioè non sbaglio nel senso eh seguendo le strategie che ho pianificato non faccio degli errori poi le strategie possono andare male eh in questo modo ragazzi però eh sembrerebbe no se io vi dico siamo tutti longo tutto felice sembra di metterci le pezze davanti agli occhi perché un po' i dati che stiamo vedendo in questi in questi giorni in questi mesi e beh ragazzi non è che siano cioè è innegabile quello che vi sto dicendo quindi dei livelli sotto i quali il mercato poi rischia di farci questo meno 40 compreso poi di un meno 7 meno 7 qui e insomma è andare a fare una bell down poi di queste proporzioni quindi un altro meno 52 da questo livello che già abbiamo raggiunto non oso immaginare cosa succede poi alle altcoin in situazioni del genere una cosa di questo tipo eh un pochettino ehm mi metto un po' di ansia eh oggettivamente perché mi sembra di eh volontariamente non guardare questa cosa che vi sto spiegando a voi eh così eh magari ecco se ci confrontiamo anche noi stessi diciamo su questa cosa del canale ci diamo un po' una mano a vicenda perché è innegabile che esista questa cosa qui ragazzi allora poi eh possiamo breccare ancora la undici di nuovo e a rialzo sì Gabriele ecco questa è una domanda giusta però se brecchiamo la undici di mensile a rialzo se la brecchiamo annulliamo questo pattern che l'abbiamo già fatto eh una volta nella prima della pandemia quindi allora capite l'effetto molla adesso non ce l'ho una molla qui con me ragazzi io con quello di voi è una molla per caso devo trovare una molla adesso vediamo se la se la trovo in una delle penne no vabbè l'effetto molla è esattamente questo ci va a creare una situazione di compressione che è quella che stiamo vivendo in questa zona qui siccome questi mercati sono anche strettamente emotivi e e sono molto legati a quella che è l'emotività vi dovete preparare in entrambe le due direzioni perché io penso che l'esplosione possa esserci eh anche al rialzo se fanno cose del genere però è un po' complessa la questione perché a rialzo abbiamo diversi scogli e poi c'è eh anche questo massimo storico quindi se fa un break qui e poi deve breccare al rialzo quindi deve fare proprio eh un'impennata importantissima intanto Giovanni ti ringrazio eh sono contento anche che condividiamo eh tutta questa cosa eh anche con con gli iscritti con i follower però ragazzi io insomma vi dico intanto fate attenzione a questa configurazione tra le altre cose tutti quelli che hanno studiato analisi tecnica e sono formati conoscono alla straperfezione questo tipo di figura si chiama inside questa è una candela inside cioè una candela di riflessione del mercato completamente contenuta dalla precedente candela è un segnale molto importante ragazzi perché significa che il mercato non ha direzionalità ma soprattutto sta respirando rispetto al precedente trend non ha invertito il trend questo è il discorso quindi dal mese prossimo rischiamo gravemente di ritornare nel trend di bassista se facciamo una cosa del genere e c'è un break soprattutto se questo break viene confermato dal mese di ehm e marzo quindi alla fine del mese di marzo eh proteggetevi proteggetevi eh dalla eh dagli investimenti speculativi quindi attenzione alle altcoin speculative questo è il eh discorso poi a rientrare ci siamo sempre ragazzi io proprio eh ieri sono dovuto rientrare da un'operazione eh di un sistema di lungo periodo che è uscito male l'altro giorno ma purtroppo eh non vi nascondo proprio che cosa faccio io così quando che ancora adesso mi dà un fastidio immenso però so che è il modo migliore ragazzi per eh operare tant'è vero che per esempio nei mesi precedenti era uscita a 63k su bitcoin quindi è vero che ieri per esempio ho sbagliato cioè l'altro ieri è uscito male poi rientrato è entrato un po' più su però non si può avere tutta la torta bisogna prendersi la torta che si riesce a prendere quindi questo è fondamentale eh questa zona tenetela a mente questa è la vera zona che cambia tutto nei prossimi mesi perché noi siamo qui in mezzo e in mezzo ragazzi quindi andatevi a scrivervi eh queste cose disegnatevi queste medie mettetele eh diciamo dove volete e ricordatele perché siamo eh ehm qui in mezzo ha ragione Gabriele che dice serve un catalyst allora la questione del catalyst eh ve la spiego in maniera molto eh semplice cosa succede quando i mercati cercano un catalizzatore per andare al rialzo ehm è il catalizzatore che modifica i prezzi oppure solo la scusa fatevi questa domanda allora eh gli mercati funzionano così quando vogliono la scusa per salire la vanno a trovare quindi servirà un catalizzatore basta un tweet una news una fesseria il phone quello che dice alle otto fra poco la federal reserve sui dati sull'inflazione e spara al rialzo perché stanno cercando quel motivo ragazzi va bene il catalizzatori sono solo dei turbo la nitro eh che va buttata eh lì nel momento in cui il mercato la vuole eh fate fate attenzione a che cosa è successo nella eh giornata di martedì quando eh martedì eh questione russia è diventata pacifistica quindi c'era pacifica scusate eh e e si è passato diciamo da una parte di tensione a una parte di tranquillità i mercati che hanno fatto pump finto e il giorno dopo di nuovo di nuovo a zero cioè di nuovo dove erano prima cioè i mercati non stanno cercando la scusa per salire questo è il problema stanno cercando la scusa per scendere questo è il problema e non ci sono queste notizie perché la fondamentale sui mercati cripto sono ottime e quindi i mercati non trovano il catalizzatore ribassista e questo è il discorso sembra strano che vi faccio questo questo faccio a me ma stanno andando talmente bene i fondamentali delle cripto che sono accettate praticamente ovunque cioè ma voi vi rendete conto di cosa significa cioè tutti parlano di cripto il superbollo era cripto friendly l'altro giorno un capolavoro gli nft sono dappertutto eh sfilate di modo nel metaverso cioè le cripto sono entrate nella vita di ogni giorno eppure ragazzi noi siamo a meno cinquanta dai massimi di bitcoin questo è quindi il catalizzatori funzionano a dare più spinta alla direzionalità che i mercati hanno già preso questa stampatevi questa frase la scrivete e risolviamo un po' la questione catalizzatore ragazzi perché eh è benissimo che servono e servono alla grande però purtroppo eh solo quelli verso che che i mercati vogliono quindi in questo caso a me la paura l'ha fatta proprio venire la questione legata alla russia e dell'altro giorno i mercati sembrava che stessero andando giù eccetera ora sapete bene che l'analisi ciclica ci porta ancora eh questo mese di febbraio deve chiudere eh io di nuovo vi ripeto sono dovuto entrare long ma sono positive perché sto eh seguendo una macchina ma ho paura perché non mi fido quindi per me la seguo comunque però eh solo sopra alcuni livelli noi ritorniamo in pensiero positivo per cui poi un catalizzatore ci dà il turbo rialzo e cioè solo sopra il a media a undici fintanto che non siamo tornati qui non c'è catalizzatore che tenga ragazzi perché l'unica cosa che succede con un catalizzatore e fare il pump e poi il dump il giorno dopo come avete visto ieri e oggi di nuovo dump questa è la questione quindi siamo nella molla eh marzo importantissimo va bene ragazzi marzo veramente importanti importante questo livello e questa media a ventuno tenete la mente per tutto il il tempo va bene allora qui eh qui diciamo abbiamo concluso quella che era super analisi su bitcoin analisi di livello altissimo ragazzi gli ultimi video sto facendo delle analisi estremamente più importanti eh perché secondo me i follower che mi seguono ormai hanno le basi per poter ragionare anche in questo modo più veramente da analisti 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 eh io ci provo io ci provo vi do vi do la benzina il catalizzatore come si dice poi eh ditemi comunque se c'è una delle incompressioni delle cose insomma che magari vi vi escono più di difficile analisi eth allora max io ti dico una cosa su eth eh ho in mente delle cose però non posso spoilerarle perché eh ci vogliono tre mesi probabilmente perché avvengano e poi mi togli la eh tutti i video cioè il piano editoriale da qui i prossimi tre mesi su eth però ho in mente delle cose ovviamente eh avviserò tutti in academy eh parlerò di questa cosa perché eh eh se le cose girano bene e quando tornerà eh il mood positivo i eth per me diventa eh una coin estremamente importante e molto più del passato quindi dobbiamo andarla a vedere va bene allora buttate giù qualche eh domandina e andiamo poi su cro crypto.com andiamo a vedere la questione crypto.com anzi il grafico lo mettiamo già qui così la eh vediamo insieme tra l'altro crypto.com è nella mia lista blu quelle che sono la mia lista blu sono delle crypto che io tengo eh d'occhio perché potevano potrebbero diciamo avere eh un atteggiamento differente da altre crypto e in effetti lo hanno già avuto perché per esempio anche crypto.com è salita molto di più di altre in questa fase sta disegnando dei dei cicli differenti adesso vi faccio vedere poi dov'è crypto.com ne parliamo veramente alla grande eh intanto Giuseppe diamo ciao scusa io vengo da moda analisi finanziaria aziendale ok eh fondamentale allora non pensi che i prezzi scontino tutte le diciamo assolutamente sì Giuseppe io lo penso come te e forse sei sul mio canale da poco per questo magari non non sai questa risposta ho fatto mille video dove spiegavo proprio a tutti che secondo me i prezzi scontano tutte le news assolutamente però ci sono alcune news straordinarie come abbiamo visto la pandemia come sai anche tu per esempio shock della Federal Reserve shock infrattivi che non sono previsti shock delle materie prime del petrolio e tutto il resto che modificano di gran lunga un po' anche l'andamento per esempio lo scorso anno Ethereum ha avuto uno shock importante relativo alla sua struttura di immissione quindi di inflazione perché è stato eh completamente modificato quello è uno shock e quindi quelli modificano eh la struttura dei prezzi le news come sanno tutti quelli che mi seguono no non tanto va bene eh allora eh Luca mi mi dice Mauro cosa ne pensi della teoria dell'allungamento dei cicli allora eh i cicli eh si allungano questo è assolutamente vero però eh allora ti 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 insegno un trucchetto i cicli si annullano quando i prezzi non si muovono ok? Raga lo so che mi dicono queste cose è difficile un po' eh cioè ehm è vero che prezzo e tempo sono sono separati però è anche vero che il prezzo ha in un'influenza sul tempo come il tempo ha un'influenza sul prezzo immaginate la la solità eh il solito cerchio il solito eh la solita spirale o cane che si morde la coda nel momento in cui eh il prezzo fa dei movimenti impulsivi up o down importanti i cicli si accorciano nel momento in cui il prezzo non fa niente i cicli si allungano quindi c'è questa tendenza molla del mercato questo ovviamente macro nei lunghi periodi diciamo nei nei in ambiente molto ampio eh questa cosa ci porta anche a a dire la questione eh da risposta a quello che tu ci hai chiesto cioè i cicli si allungano sì nel caso di bitcoin perché perché nel 2021 bitcoin non ha fatto niente ragazzi ha oscillato è vero che ha guadagnato perché a gennaio avevamo più bassi il primo di gennaio però in sostanza ha oscillato in barra di congestione questo ci porta all'allungamento dei cicli anche per questo che probabilmente siamo ancora nel semestrale vecchio di bitcoin e non nel nuovo ed è anche per questo che io considero dei cicli annuali molto ampi va bene eh allora vediamo Roberto che stai combinando aiuto sono sono in panic sell a 38k ma eh eh sono ho andato in panic sell a 38k ma sono pentito e con la metà vorrei rientrare strategie eh la strategia l'unica che puoi usare è studiare te lo dico proprio in maniera chiara mi dispiace ragazzi che non vi do le risposte che vi piace cioè è darvi la soluzione a un problema se volete le soluzioni ci sono tante i tanti fuffaguro soprattutto su facebook che mi dicono tutte le cose che dovete fare e che invece non vi servono a niente perché quello che dovete fare è studiare e capire che bisogna pianificare ogni volta che fai un click sull'operazione tutti quelli che hanno fatto i miei corsi lo sanno ragazzi quindi eh non c'è soluzione a questa cosa e tu non puoi fare assolutamente niente perché se sei andato in panic selling avevi sbagliato la precedente operazione ma se sei ancora nel mood del panic selling sbaglierai anche la nuova quindi questo significa che eh hai perso quello che hai perso hai vinto quello che hai vinto fermati studia approfondisci costruisci un trading plan va bene quindi eh leggi di dire i libri ehm di analisi eh studia le strategie cerca di ragionare sul mindset che deve avere un investitore quando metti i premi play diciamo la macchina ricordati sempre cosa può andare bene cosa può andare male cosa fai cosa può quando le cose vanno male cosa fai quando le cose vanno bene pianifica tutto prima se pianifichi tutto prima non vai mai in panic selling non è che non ci va mai ci va lo stesso però molti molto 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 di meno va bene ok quindi mi raccomando roberto su questa cosa eh ok eh andiamo ciao mario come la vedi keeper la vediamo dopo la vediamo dopo keeper va bene queste eh le vediamo così eh e TH supererà BTC beh allora su questo ne possiamo parlare ero fra qualche mese va bene ehm andiamo avanti diciamo ragazzi eh ecco roberto hai ragione grazie scusa roberto non era però era una critica è veramente perché lo direi a chiunque l'ho detto a me stesso tanti anni fa e l'ho detto ridetto sempre ragazzi venite a casa mia trovate montagne di libri non libri montagne più tutti i pdf più gli autolibri più quelli fotocopiati che compravamo all'università veramente montagne di libri ragazzi oggi c'è c'è youtube c'è eh tutta questa formazione online che è veramente un regalo un regalo immenso ragazzi per imparare quello che oggi ho messo che ho che ho fatto ci ho messo anni 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 e poi lo racchiudi in un corso e e gli altri lo imparano in in tre mesi a questo serve la formazione perché vi fa guadagnare anni di vita quindi vi porta avanti va bene grazie Luga grazie tantissimo grazie di cuore va bene eh ciao Giuliano allora io consiglio sempre per iniziare il libro di Marti analisi tecnica dei mercati finanziari ho lo stesso libro di Pring analisi tecnica dei mercati finanziari sono libri universitari ti insegnano le basi dell'analisi tecnica non ti insegnano il mindset io libri di mindset fatti bene non ne ho visti ehm poi andrebbero aggiornati di volta in volta comunque le basi ti servono altrimenti non sei l'alfabeto non capisci neanche di che parliamo però poi da lì a dire ok applico quello che è scritto in quei libri faccio profitto scordetelo perché ci vuole il mindset che non funziona in quel modo analisi tecnica va bene andiamo a vedere CRO ok ragazzi allora andiamo su CRO altrimenti ci perdiamo poi nelle analisi allora CRO può fare nuovi massimi dove siamo e qual è la struttura della cripto di cripto.com quali sono i livelli chiave e intanto ragioniamo sia da un punto di vista di grafico del settimanale vi ho inserito tutti quelli che sono dei livelli di prezzo eh che potete assolutamente ehm segnarvi ragazzi perché questi sono livelli fondamentali eh insomma eh che eh diciamo potete assolutamente eh indicare e che hanno una validità enorme su cripto.com su CRO eh eh allora intanto rispondo a Gianluca brevemente possibile contattarti in privato ciao Gianluca sì puoi scrivermi una mail ad info chiocciola tradingon.it eh più o meno rispondo anche anche io ogni tanto certo che c'è la strategia di stablecoin ma è molto semplice molto molto semplice poi eh magari farò un video e ve la spiego allora eh per quanto riguarda questo grafico ragazzi allora il cripto.com vedete che è all'interno anche eh lei di queste due media però qui siamo sul eh weekly mentre se io vado a mettere il grafico del mensile intanto non riesco ad avere neanche la eh ventuno perché non c'ho non abbiamo messi sufficienti per disegnarla al momento abbiamo questa però già vi fa capire come cripto.com negli ultimi undici rispetto alla M11 che abbiamo visto su bitcoin è enormemente più alto quindi è molto più su ragazzi perci perciò insomma eh insomma è molto molto rilevante allora qui abbiamo un'altra eh zona di eh famosa eh molla da andare a verificare su cripto.com perché abbiamo eh questa eh fase di eh settimanale che sta all'interno di queste due candele quindi ha provato in sostanza a eh sfondare la media a undici a riportarsi in trend rialzista anche sul settimanale ha provato a fare questo e e non c'è riuscita questa settimana e sta eh ritracciando leggermente intanto un saluto alla cara Islanda che io vorrei assolutamente venire a visitare perché non ho mai eh non l'ho mai visitata allora eh questa zona però ci dà anche una risposta ragazzi allora CRO è eh attentato il ribasso però si è fermata quindi qualora nelle prossime settimane Bitcoin dovesse ritornare in una fase positiva il ehm cripto.com potrebbe iniziare una fase completamente diversa ma in particolar modo 0.055 questo livello rappresenta lo spartiacque che darà il la quindi il via a un nuovo trend della cripto di cripto.com eh di medio periodo nuovo trend che può tranquillamente portare questa cripto valuta a fare nuovamente nuovi massimi scusatevi il gioco di parole è vero che siamo in una fase un po' delicatuccia però è anche vero vi faccio vedere il ciclo annuale probabilmente di cripto.com è proprio stato eh e si è concluso probabilmente a gennaio quindi a meno di situazioni particolari eh questa cripto è entrata nella mia blu eh blu list perché essenzialmente potrebbe spingere molto di più proprio dopo la chiusura di questo ciclo mensile ovviamente prima bisogna attendere questo ciclo mensile per capire come siamo messi e da lì in poi attendere per esempio qui è una struttura ternaria un po' come bitcoin sta facendo questa struttura adesso teoricamente dovremmo chiudere in una cosa del genere e da qui in poi attendere un nuovo ciclo se il nuovo mensile breccherà 0.054 ha molta probabilità ragazzi di andarsene veramente a ritestare i nuovi massimi perché probabilmente qui è iniziato un nuovo ciclo annuale su cripto.com non semestrale quindi se bitcoin spinge un po' con il ciclo semestrale magari ritorna in area 54 55 che poi è un po' l'obiettivo dell'anno ragazzi area 55 60 è l'obiettivo dell'anno 2022 eh di bitcoin per evitare i danni seri che potrebbero avvenire dalla seconda eh parte dell'anno cioè a metà del secondo quarter cioè dopo maggio giugno lì ragazzi eh ok defcon 5 perché stiamo estremamente attenti a quella zona già ve lo dico poi vedremo dove siamo vedremo com'è la situazione però eh lì bisogna stare attenti quindi cro cripto.com ehm ha dimostrato intanto di avere eh un po' tante carte no? Sotto eh il materasso perché eh la questione Cronus la vede ancora di gran lunga indietro rispetto per esempio a BSC BSC che ha corsa già i ripari gli è riuscito un'altra news per le questioni metaverso se non sbaglio quindi per BNB per dare di nuovo l'info a BNB eh però da un punto di vista eh da un punto di vista di carte da giocare che il tuo.com ne ha tantissime intanto ha un marketing pauroso eh e su questo insomma non c'è è più è stata sempre più marketing che altro eh però eh da un punto di vista pratico questo serve nel nel settore delle cripto e insomma ragazzi il CRO lo hanno eh pompato in tanti tanti modi ci ha visto insomma anche che ci tengono hanno bruciato hanno fatto il burning hanno fatto tante altre cose su CRO eh adesso siamo in una situazione del genere quindi intanto il team ci tiene a questa cripto quindi non è che sarà abbandonata ehm poi la questione legata alla ripresa del trend è fondamentale perché con cripto che hanno dei fondamentali che eh quasi sempre sono volti ad avere un atteggiamento ehm eh di di diciamo long di lungo periodo eh quello che probabilmente qui stanno andando a idealmente a fare è a cercare un'altra ondata perché se qui abbiamo chiuso un anno vedete ed è un annuale ho un po' di dubbi perché i dati sono pochi ragazzi ve lo dico la questione qui è legata solo al fatto che abbiamo pochi dati sono pochi anni quindi non è che proprio tutta questa affidabilità di questo tipo di analisi perché sono un po pochini i dati però se la M è stata eh conclusa da qui in poi iniziamo la nuova fase e questa nuova fase se è veramente così io ci vedo la possibilità tranquilla di andare a breccare anche i massimi e andare a noi massimi abbiamo delle cose da guardare e intanto in la prima di tutti la chiusura di questo mensile perché intanto deve confermare che qui è stata chiusa la la questa questo trend ragazzi se invece questo mensile mensile crolle inesorabilmente così non è stato chiuso niente qui e quindi eh poco poco male insomma si deve riprendere da capo ma se questo mensile chiude qua intorno alla fine del mese di febbraio per esempio eh ho anche un po' un dubbietto verso la prima decada di marzo di questo ne parliamo il lunedì nelle analisi cicliche e nelle news di bitcoin ragazzi quindi eh mi raccomando state attenti a questa cosa da qui in poi però possiamo avere secondo me una nuova fase quindi io attenderò anche su crypto.com questa zona dopodiché perché no qualche traddino che magari possa andare a ricercare un ingresso speculativo esclusivamente di trading perché la parte holding l'ho già rimessa ve l'ho detto in un video l'altra volta avevo erroneamente secondo me fatto dei calcoli è scesa comunque quindi l'ho ripresa un po' più bassa però non era quella la mia idea l'avevo chiusa un po' lì poi l'ho riaperta perché ho visto delle questi atteggiamenti che vi sto raccontando quindi eh 0.055 è la chiave prima dobbiamo chiudere questo mensile poi andiamo a fare questo app eh se brecca 0.055 secondo me è all'ottanta per cento un nuovo ciclo annuale teoricamente su crypto.com poi bisognerà capire dove va quel ciclo annuale perché sul ciclo annuale rialzista brecchiamo i massimi se invece debole e bitcoin gira a mercato orso e a bear market questo ciclo annuale di crypto.com si esaurirà probabilmente sotto i massimi e da lì via di fuga per tutti quindi se non è eh zuppa e pan bagnato come si suol dire ragazzi ma facendo un'analisi del genere abbiamo un po' le idee chiare sulla questione ehm di crypto.com e di cro va bene? Ok andiamo a capire un po' qualche domandina così ci scateniamo scatenate le domande ragazzi ehm e e e e poi andiamo a rispondere allora eh vediamo intanto Mauro dai un occhio anche al grafico il CRO contro bitcoin è lì poco sotto ai massimi è un breakout potrebbe dare una bella sfida allora eh il grafico perché io allora che CRO l'ho sempre tradato contro bitcoin per però dal gli ultimi 3-4 mesi ho cambiato questa cosa proprio per questo che stai dicendo tu perché su bitcoin è stato parecchio più forte e e questo un po' ha modificato eh l'andamento delle analisi quindi ho modificato proprio le analisi allora questa è la struttura contro eh bitcoin eh e se qualcuno di voi si ricorda insomma io l'ho trato praticamente da qui ragazzi dal dicembre 2019 tradiamo CRO sono stato trovate se riuscite a trovarli mi fate un favore perché io non ritroverò mai tutte le analisi dove abbiamo gestito cavalcato questo pump abbiamo chiuso su questo dump eh che poi è stato enorme non mi sarei mai aspettato una cosa del genere ma eh poi siamo rientrati a questo break in questa zona qualcuno di voi si ricorda e addirittura abbiamo raddoppiato tutte le posizioni insomma CRO forse una delle coin che veramente mi ha dato più soddisfazione dal punto di vista di trading perché non sono uscito veramente a cavalcarla e in toto mai con perdite sono una cosa stranissima la più fortuna se ci riprovo mille volte non ci riuscirò mai allora questo è il grafico contro bitcoin ed è proprio questa la il grafico che eh che ci davano serie di risposte perché eh qui vedi com'è già da da gennaio è più forte il bitcoin nel rialzo perché bitcoin anche qui ha toccato un minimo però non è salito come CRO CRO è salito di più tant'è vero che CRO contro bitcoin ha un trend di rialzo nonostante una coin farm and dump quindi questo è il discorso nonostante sia una coin farm and dump rispetto a bitcoin che dovrebbe essere una fase negativa cioè una fase teoricamente un po' deboluccia del mercato dovrebbe essere uno store of value addirittura questa cripto è salita di più nella fase di ripresa in teoria nelle fasi di ripresa lo store of value sale di più e poi le fasi di rimbalzo questo non è un intendo una ripresa di lungo periodo ma un rimbalzo sale di più lo store of value rispetto alle altre coni questa invece si è comportata meglio e e da qui un po' tutta la questione poi c'è eh anche un disegno eh di questa zona sembrerebbe proprio tentare questa eh questo break solo anche qui però ragazzi è solo un break di questo livello che è escluso 0 e 13 più o meno 13 mila eh se brecca qui eh poi il tentativo di fare i nuovi massimi c'è e ci sta tutto però io un po' crypto.com la voglio andare a vedere sul grafico eh in questo momento sul grafico USD perché sul grafico USD eh un po' la vedo autonoma rispetto anche a bitcoin e secondo me ci può stare per alcune cripto in questo eh in questo frangente va bene andiamo avanti eh va bene altre domande ragazzi solo su crypto che già conosciamo perché non c'è tempo di fare analisi tutte tutte strade eh possiedo c'è arrivata ai tempi di monaca eh sì oppure ce l'ho dall'MCO che comunque era eh fichissimo insomma che quella cosa lì eh come siamo messi con il cross delle tue MA di bitcoin eh ciao Carlo intanto come siamo messi con il cross delle medie di bitcoin andiamo a vedere bitcoin eh che ho fatto vedere diciamo sui grafici di lungo periodo non li ho fatti vedere su sul daily ti faccio vedere il daily eccolo qua allora questo è bitcoin queste sono le media 11 e 22 sempre sul daily eh il ribasso dell'altro giorno è stato fermato dalla media a 11 eh eccola qui vedete questa zona e poi c'è stato questo pump si è bloccato sulla resistenza attenzione perché qui si gioca la partita penso stasera quando bitcoin quando avremo notizie dalla Federal Reserve se le notizie sono positive nel mercato va a prendere l'aria del rialzo brecca questi 44 e se ne va eh intorno a 47 48 secondo me eh questo potrebbe tranquillamente fare l'incrocio delle due medie ha sancito l'inversione di trend di breve infatti eh qui insomma era un breakout eravamo live qui vi ho fatto anche un video per spiegarvi che questo era un long e e niente ragazzi questo è proprio un trend nuovo non è un ribasso ecco perché io da qui probabilmente penso che il bitcoin abbia potuto iniziare almeno un ciclo di due tre mesi quindi eh probabilmente il nuovo semestrale poi si vedrà però eh se è un nuovo semestrale ragazzi anche normale questa fase up eh il problema infatti non è che sale il problema è che non cioè e se riesce a fare così questo è il discorso quindi eh se qui siamo nel nuovo semestrale quindi la nuova gamba della M per intenderci ragazzi andiamo qui su è un discorso se invece questo semestrale eh se è confermato lo sappiamo sempre a fine mese sale fin qui e poi si indebolisce ricordatevi che questo ciclo annuale iniziato qui va in chiusura verso eh settembre più o meno agosto settembre quindi poi lì si mette male ecco perché dobbiamo stare attenti però al momento nel breve è long bitcoin con questo incrocio delle medie andiamo ad altro Andrea come mai non utilizzi l'inversione analisi ciclica mi dovrebbe ripotenziare i massimi assolutamente no anzi confondono le idee in maniera estremamente radicale però l'analisi dei massimi dei cicli sui massimi che ovviamente basta invertire ragazzi quindi è semplicissima analisi sui massimi ehm eh va bene nel breve cioè se tu fai trading veloce scalping cose del genere sì perché ti aiuta quell'analisi lì perché eh è un'analisi in cui ti serve un take profit il problema è lì quando ti serve un take profit eh è solo perché stai facendo trading quando invece ti serve quanti di posizioni per il medio lungo periodo assolutamente no il take profit no perché nel medio lungo periodo ehm ehm questo tipo di strumenti come bitcoin per esempio sono eh impulsivi quindi danno dei livelli molto altri vanno oltre previsioni se andiamo in price discovery non esiste massimo che tenga eh quello è il discorso quindi andare a a eh diciamo bloccare i massimi eh su strumenti come le cripto eh allora forse te lo posso guarda accettare in bitcoin duemilaventidue ma nelle altcoin assolutamente no eh mentre invece nel trading proprio nel giornaliero nello scalping di pochi punti percentuali sì perché lì ti serve take profit perché ti serve uscire dalla posizione quindi usala per quello però non serve a niente nel lungo periodo questo è il discorso la possiamo fare infatti se ti ricordi l'anno scorso avevo fatto tutta l'analisi sui massimi quando ho stabilito il target price a 67 di bitcoin famosissimo target price poi eh praticamente è stato il target price di bitcoin ovviamente mai potevo immaginarlo dopo due anni ragazzi ok però quella l'ho fatta proprio con l'analisi sui massimi ma al tempo devi comunque aggiungere l'analisi delle oscillazioni volumetriche di prezzo e e di volatilità altrimenti non ti serve niente nel lungo periodo quella cosa lì ma nel breve sì nel breve è strautile va bene andiamo avanti allora Marco intanto Mauro che carta cripto consigli allora eh per me le migliori sono crypto.com eh wirex e finance card eh a me piacciono tantissime queste qui mi trovo bene con tutte e tre eh ho usato per anni la wirex poi uscita la crypto.com la usi di più perché eh c'ha il cashback perché poi io la carta green quindi insomma quella col cashback alto però anche la la wirex va da dio ragazzi sempre eh a me è sempre funzionato bene alcuni si lamentano che poi l'assistenza non va però a me è sempre funzionato alla grande e poi Binance pure non si smentisce anche se il cashback su Binance non è proprio identico comunque trovi un sacco di video sulla eh sul mio eh canale su questa cosa eh allora ciao Giuseppe parliamo di Ada allora io su Ada voglio proprio farci un video ragazzi perché purtroppo Ada non è messa bene e questo è il discorso allora qui è sempre il solito discorso ehm che secondo me eh bisogna starci estremamente attenti sulla questione Ada perché in teoria ha un annuale ribassista io adesso ve lo faccio vedere poi possibile che mi sbaglio ragazzi perché ovviamente tutto è possibile però da quello che si vede sui grafici Ada è un must short di copertura del eh sul sul bear market eh lo so è brutto dire queste cose guardate brutto dire queste cose perché vi faccio vedere il grafico di Ada intanto la differenza è gigantesca rispetto alle altre cripto per esempio nella fase di di rimbalzo mio Dio che cosa è successo ho ehm attivato metamask praticamente ragazzi ok allora andiamo qui e vi faccio vedere allora questa fase di rimbalzo di Ada praticamente insignificante anche rispetto a quella di eh di BTC quello è un grafico eh settimanale ve lo faccio vedere sul grafico settimanale di Bitcoin ok Bitcoin fa questo e Ada no vedete cioè questo è un problema di forza relativa si chiama così quindi quando io ho una criptovaluta che fa una cosa del genere con il re che fa quello che fa e beh ragazzi eh c'è niente da fare c'è niente da fare poi tra l'altro ha un problema serissimo eh questo livello di un dollaro è il minimo dell'annuale ragazzi e sembrerebbe averlo breccato è vero che non ci ha chiuso sotto però tenta costantemente di breccare questo livello ragazzi quindi o stiamo sbagliando sto sbagliando analisi ciclica su Ada oppure questa scende fino alla fine di tutto l'annuale cioè in pratica sta facendo così per fare così questo è eh lo so ragazzi poi eh bisognerà vedere se se questa cosa verrà confermata però Ada ha messo malissimo dal punto di vista di analisi tecnica male 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 quindi o stiamo sbagliando qualcosa o avviene un cambio oppure è nella mia lista red nella lista red ci sono solo le cripto che sono messe proprio male e c'è poco da fare quindi è così eh va bene ragazzi queste qui sono un po' messe maluccio nella lista red e bisogna starsi molto molto attente non dico che i progetti non siano validi possono essere validi non validi ragazzi però qui parliamo dei prossimi sei mesi non è che parliamo di una vita io poi faccio un investitore se ci sono progetti migliori per esempio sulle cripto perché devo mettere il mio capitale in un progetto che al momento non performa bene perché magari non ha il marketing giusto magari ancora stanno aspettando degli aggiornamenti magari il mercato non lo apprezza perché è stupido a volte il mercato è stupido ragazzi non apprezza i progetti giusti ma io non posso andare contro mercato non andate contro il mercato poi magari eh quando c'è un piccolo segnale perché no mi piace il progetto long di nuovo però aspettate almeno un piccolo eh segnale ok allora intanto eh mettiamo una notizia che mi piace perché hai guadagnato cento K con CRO e io sono felice perché hai fatto benissimo anche questo servono le le e diciamo le cripto va bene ok attori dice facci vedere la lista red eh sì e no perché se te la faccio vedere poi tutti dicono ah queste sono negative e però in realtà ognuna ha una vita propria quindi io ve la mostro qui ragazzi però poi vanno eh fatevi lo screenshot però poi vanno tutte spiegate perché vi assicuro che non è come pensate quindi non vi mettete a shortare o andare contro queste cripto perché non è così eh molte le sto anche rivedendo quindi fate attenzione e io non do consigli finanziari va bene andiamo avanti ciao Marco se ne pensi di Bitpanda ciao Sabatino mi hanno chiamato a quest'estate cavolo e dovevo parlarne di questo exchange lo devo andare a vedere il fatto è e te lo dico chiaro io sto utilizzando eh tre exchange eh diversi in questo periodo perché eh li li trovo estremamente insomma utili uno di questi per esempio è delta exchange che è un exchange piccolo con il quale però mi sto trovando molto bene vedete fa eh 600 milioni di volume quindi non è tantissimo perché eh considerate che di solito gli exchange fanno di più però sta crescendo veramente tanto ne ho parlato ho fatto anche la recensione e anzi vi lascio i link in descrizione se date una mano anche con questo ref per delta exchange ragazzi perché mi piace molto e c'ha tante tante cose strane poi su questi exchange bisogna anche capire come andare a operare e e tutto il resto quindi sto utilizzando questo FTX che ovviamente è diventato il mio exchange di riferimento insieme a Binance però Binance solo per lo spot quindi per i future uso delta exchange FTX e prime XBT eh per le cose iper strane che facciamo su prime XBT ovviamente con la VPN perché non funziona più se vi ci connettete normali però eh al di là di questo questi tre exchange sono già abbastanza andiamo ad aggiungerne un altro sicuramente lo andrò a valutare però a me quello che piace degli exchange ragazzi è che non si impallano mai scusate il termine non si bloccano mai durante i crash hanno commissioni basse non fanno slippage eh e e tante piccolezze che sono la chiave per i trader quindi Bitpanda lo devo assolutamente provare eh e lo farò perché eh aggiungere nuovi exchange è sempre utile e secondo me può essere importante andarlo a valutare perché no però questi tre eh mi ci trovo molto bene e ovviamente anche diversifico così che non ho un rischio centralizzato su un unico exchange e li uso per fare trading questi ragazzi e potranno avere anche le API sviluppate per esempio FTX delle API spettacolari quindi cioè andare a usarlo eh per fare trading eh automatico con i bot eh ci stiamo trovando molto bene va bene eh andiamo avanti eh andiamo a questa domanda interessante Andrea cosa ne pensi del mining? Il mining è un capolavoro però è molto complesso è un settore particolare va benissimo per Ethereum con i rig in questo momento però devi crearti tutta una struttura e il mining è un'attività di impresa non è un investimento in cripto se tu eh diciamo col mining devi andare a fare profitto immediatamente entro massimo tre quattro mesi devi coprirti tutti i costi di mining che hai eh facendo la struttura la zona insonorizzata perché fanno un macello con le macchine devi metterci la ricondizionata non devi pagare le corrente elettrica allora facendo questa struttura industriale in quattro mesi ti devi ripagare tutti i costi e poi andare in gain se non è così non va bene il mining ha delle strutture molto particolari io sono nato miner ragazzi quindi nelle cripto ero un miner Lorenzo come mai hai sushi nella lista blu? È ferma eh allora come mai ho sushi nella lista blu? Per lo stesso motivo per quale ho le altre perché eh sushi probabilmente ha un eh ha chiuso un annuale e però che è ferma l'ho notato che è ferma e infatti sono molto attento anzi ti faccio guarda questo eh evidenza qui allora c'è un problema su queste cripto perché tutte quelle della famosa primavera ehm della summer scusate lo primavera dell'estate della DeFi e hanno dei grafici solo da novembre da da luglio quindi agosto luglio quindi eh qui teoricamente sembrerebbe che sushi stia andando in chiusura di un nuovo ciclo annuale ora qui sembra che non l'abbia chiuso e quindi stia aspettando nuovi minimi ovviamente io non sono entrato long su sushi però sushi sembra in chiusura di un annuale ora capiscimi bene qual è il discorso e per questo che ti dicevo pure prima non vedete le liste delle cripto perché io poi ci faccio cose strane quindi non è potente andare a copiarle ragazzi non si copiano i trader e va capito quello che bisogna andare a fare e e questa cosa eh eh in pratica eh potrebbe essere una coin che magari in un possibile app di bitcoin nei prossimi mesi potrebbe fare di più proprio perché magari parte dal basso però non è una coin alla quale sulla quale io vado a comprare in dip cioè aspetto un'inversione poi magari ci provo perché parte da molto più basso delle altre ha tanta strada da fare magari poi arriva una news arriva la cosa sembrerebbe in chiusura di un annuale quindi questa cosa è interessante tutto qui allora intanto grazie per l'adorazione eh come sempre c'è una domanda di fuori dalle cripto eh da old market grafico del del gold ah il grafico del gold non lo vedo da un sacco di tempo che mi hai fatto eh riscoprire il grafico del gold andiamolo a vedere sulla struttura dove c'è il eh andiamolo a trovare vediamo se lo trovo il grafico del gold dove sei gold allora gold 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 andiamo a vedere dove sta a me non piace ragazzi il gold per questo non lo guardo mai perché eh è un asset improduttivo cioè non lo so io sono amante delle cripto non mi è mai piaciuto già non mi piaceva prima e quindi eh da lì in poi diciamo l'ho usato sempre meno eh ok vediamolo qui ok eccoci sul grafico del gold ragazzi ok andiamo a vedere il gold asset eh vediamolo ovviamente in weekly così ci facciamo un po' il punto allora ha una struttura eh molto particolare e in questo caso preoccupante perché come anche le altre ehm gli altri grafici indica una sua struttura intanto viene da un trend ampiamente realista perché non mi piace tanto perché le oscillazioni seppur sembrano gigantesche in realtà non sono molto ampie perché per esempio dal duemila quindici dai minimi del duemila eh quindici dicembre duemila quindici fino ai massimi storici ha fatto più novantacinque se andiamo a vedere eh questa struttura su standard del pulso cinquecento Nasdaq per non parlare delle cripto vediamo eh tre quattro cifre non il non il novanta due per questo non piace tanto è un strumento difensivo però dal punto di vista di analisi per esempio tecnica e e ciclica è messo molto bene perché per esempio andiamo a vedere questa struttura eh di eh circa due annuali quindi un annuale qui poi con un secondo più lungo e poi c'è un'altra fase che probabilmente è stata chiusa su questo minimo eh qui cioè altri due annuali qui dentro quindi in pratica il gold sembrerebbe in un nuovo annuale da marzo del duemilaventuno che teoricamente fa eh anche lui quattrocentocinquanta quattrocentottanta giorni e poi ci sarà il nuovo che va a fare la stessa cosa ora queste strutture cicliche eh sul gold vanno a in pratica a indicarci che o questo è stato il massimo storico di questo doppio ciclo annuale tra le altre cose oppure dobbiamo breccare questo massimo o qui in questa ultima parte del ciclo cioè tra pochi eh mesi oppure nella prima parte del nuovo rialzo che probabilmente avverrà appunto a cavallo tra agosto e settembre proprio quando ci sarà la questione legata forse alla chiusura dei cicli di bitcoin quindi probabilmente magari un crash o una cosa del genere che potrebbe innescare ma qual è la questione che se o gold ha fatto il massimo qui e non riesce a salire sopra questi livelli neanche qui ragazzi probabilmente qui abbiamo il primo ehm biannuale ribassista per il gold dal 2016 quindi gold ehm visto in questo modo eh starei fortemente attento perché eh intanto deve superare i millenove e cinquanta ad oggi e questo è fondamentale però poi mi starei molto attento perché eh ha questa struttura particolare allora solitamente c'è anche un'idea che ciclicamente quando i mercati fanno un primo ciclo molto down cioè rilassato poi nel secondo possono fare anche un impulso così secondo me se avviene una cosa del genere i mercati crashano eh in maniera spaventosa questo è il discorso quindi avremmo praticamente un fine 2022 e i primi del 2023 da ricordare per sempre e per tutta la vita questo è quello che ci sta dicendo questo grafico quindi comunque il gold lo teniamo magari tra i grafici da eh anzi facciamo una cosa lo metto nella eh mio eh cripto eh macroeconomici quindi cripto macro investing tra gli indicatori da andare a guardare perché non lo guardiamo anche nel nel prossimo futuro come eh indicatore di struttura macroeconomica quindi questa è la questione legata al gold va bene allora finiamo ragazzi perché è tardi sono le otto devo uscire e chiudiamo questa live eh ciao Mauro eh analisi su luna eh luna l'ho già analizzata però la rivediamo dai la rivediamo insieme e e poi chiudiamo ragazzi però perché eh eh diciamo tardissimo va bene allora andiamo a vedere luna intanto il coin si sta riprendendo vicino la fase eh del della delle otto vediamo come andrà allora vediamo luna 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 dovrebbe essere nella mia green list c'è anche la green list ragazzi non solo la blu la green list è una cosa proprio che non vi dico scappo dalla fedda Andrea hai ragione devo andare a parlare io proprio direttamente sono io che vado a parlare va bene allora eh andiamo a vedere luna allora la questione di luna ragazzi probabilmente luna eh ha una struttura delicata delicata ve lo dico proprio in maniera chiara perché intanto eh rispetto a crypto.com guardate com'è differente il grafico è sotto le due medie quindi eh già questo è un dato molto importante siamo nella zona ribassista di breve perché con il meno 34 eh che ha fatto nella chiusura del eh mensile di febbraio di gennaio ha ha breccato tutto quindi questo è un vero break infatti vedete che il mercato stenta risalire qui è partito un nuovo ciclo che probabilmente è un nuovo ciclo mensile su luna quindi qui è partito però il problema anche qui è che sembrerebbe del brucio e siccome luna viene da una struttura annuale in fase che deve andare in fase conclusiva tra un po' perché luna è eh eh praticamente ha iniziato un annuale molto prima degli altri quindi luna è un po' a sé noi la usiamo in academy come eh criptovaluta eh anticipatoria no di quello che potrebbe avvenire quindi è molto interessante vederla da questo punto di vista però se lo andiamo a guardare si vede in maniera abbastanza evidente che questo mensile non è che proprio sia il massimo e anche qui eh va assolutamente da diciamo compresa questa cosa ragazzi intanto questo mensile vedete chiude nella prima settimana di marzo non a fine eh mese di eh di eh febbraio proprio perché l'uno è completamente diverso il mensile l'ha finito eh probabilmente il trentuno a meno che non abbia fatto un mensile anche lei eh come le altre cripto eh qui a il ventidue sia già ribassista però di questo eh ragazzi poi andiamo adesso a fare un'analisi di questo tipo bisogna proprio dedicarci proprio tanti tanti minuti quindi eh la questione è è più o meno questa qui ragazzi quindi nel momento in cui eh si va a valutare questa cripto io mi starei fortemente attento perché non è messa bene nel breve eh è vero che io ieri per esempio ho fatto un un long su su luna ma era un long di breve sono uscito durante il giorno cioè è un trading quello ragazzi eh dividete sempre trading eh medio periodo lungo periodo sono tre strategie diverse eh Luca intanto dici la vediamo insieme eh le news della Fed va bene allora siccome io sono qui con voi ragazzi eh e la Fed è quello che dice e se se prima che chiudiamo la live scrivetemelo in live così commentiamo i commenti perché io sono qui non riesco ad andare a vedere ok allora questo è e quanto diciamo sull'una ragazzi quindi bisogna starsi fortemente attenti eh è una cripto particolare eh bisogna eh ragionare eh in questa fase a proteggersi quindi eh non ha invertito trend non è messa bene ed è diciamo proprio quella che si tira giù la DeFi no? Proprio perché è l'una che insieme a Ethereum fa la DeFi adesso insieme a Solana quelle che sono le top che capitalizzano eh la DeFi se dovesse iniziare a perdere insomma vi faccio vedere anche qui il punto veramente nevralgico di Luna è il break di 38 eh scendere al al di sotto di di questi livelli ragazzi eh si mette malissimo ok probabilmente andrà in chiusura proprio dell'intero annuale poi in maniera diretta c'è ancora spazio però perché qui vedete dovrebbe essere iniziato proprio un nuovo movimento quindi eh diciamo che in sostanza prima di mars aprile fine mars aprile non so se questa cripto abbia voglia di scendere la vedo un po' difficile però mh sicuramente non è eh il top mi aspettavo più forza e poi anche questa verso fine luglio eh agosto dovrebbe andare a chiudere il eh andare a chiudere diciamo il suo eh annuale allora ma parlo in conferenza la secco comunque papi in diretta dai eh allora fa fidere se ci sarà bitcoin che sta facendo un papo perché sicuramente c'è stata qualcosa legata alla ai dati pubblicati ragazzi trovate i dati così vi guardiamo insieme i dati della federal reserve eh sull'inflazione dovrebbe essere eh e quindi ci dovrebbero essere dei dei dati diciamo su questa inflazione attenzione alla sell on news perché in queste cose qui soprattutto quello che succede nei primi minuti è pericolosissimo perché e poi i mercati eh vanno super finta poi la prendono male appunto perché gli serve solo il catalizzatore per fare finta e poi iniziano a crollare di nuovo e insomma quindi a me non piacciono mai i pump pre news non mi piacciono mai per questo motivo allora vediamolo sul 15 minuti che ha combinato e infatti eccolo qui il famoso pump and dump vedete da 15 minuti bitcoin l'abbiamo visto in diretta guardate qui lo shock della delle news fed praticamente nulla perché prima qui eravamo all'inizio dei dati poi c'è stato pump and dump e ritorniamo uguale a prima ancora una volta eh e niente di fatto insomma ok quindi sono stati eh diciamo probabilmente i soliti atteggiamenti insomma vediamo se comunque si riprende intanto qualcuno ha i dati veri ragazzi perché voi quelli ci servono eh va bene ok se qualcuno c'è il riaso no vabbè intanto abbiamo finito dai li andiamo a vedere li vado a vedere tra un poco va bene allora ragazzi abbiamo dato allora tanti sputti in questa live però eh quello che mi piace che mi avete fatto riflettere la questione sulle stable coin quindi un video dedicato alle stable coin per capire il lato lo sperimento faccio investimenti cose bla 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 bellissime poi investitore che deve fare è che sono due cose diverse ve lo spiegato dall'inizio quindi UST sì o no la fine proprio la scelta è tra amante delle cripto ci investo perché mi piace avere la tecnologia le cose fighe le cose all'ultimo minuto ok poi investitore invece cosa pensa l'investitore altra cosa ci sono due cose differenti quindi su questo secondo me dobbiamo farci un video che è interessante e poi eh sono uscite anche altre altre domande molto interessanti sulle quali andremo a riflettere magari per i video futuri va bene allora intanto ehm eh ciao Luca allora BTC sta reagendo a quelli che sono i dati della Federal Reserve legati all'inflazione e ai dati che dovevano uscire oggi che sono fondamentali sui prezzi delle materie prime industriali quindi quei prezzi se non sono saliti particolarmente indicano che eh l'eventuale inflazione potrebbe essere più controllata del previsto questo eh provocherebbe eh il concetto che la Federal Reserve possa non alzare i tassi in maniera molto speculativa e quindi sarebbe positivo per i mercati ok questo è quello che sta succedendo quindi bisogna analizzare e verificare quei dati comunque eccolo qui vedi il quindici minuti che sta disegnando questo tentativo di inversione di questo trend al ribasso che possiamo vedere proprio in questo momento che è disegnato da questa trend line che in questo momento non si sta breccando vedete come si difende la trend line ribassista eh e deve andare a breccare il livello vero di break di bitcoin nel brevissimo quindi per gli scalper è 44 e 4 ragazzi quindi sopra quel livello con conferma almeno 15 minuti vai con long e tentativo di fare nuovi massimi possibile sopra invece 44 e 5 ne parliamo settimana prossima però c'è serie possibilità che facciamo eh un bel panto va bene ok oggi è tutto noi ci vediamo venerdì eh scrivetemi nei commenti quello che vi piace o non vi piace tutto il resto eh vi ricordo la eh questione legata ai corsi perché chiudiamo tutto domenica non vi fate scappare l'occasione perché veramente ne vale la pena ragazzi soprattutto anche per la questione eh dei delle news che ci sono anche per eh la define accade allora c'è Luca Solani che oggi non riesco a fare il tempo è troppo tardi ma la vediamo in Academy tanto con te sei in Academy quindi la vediamo in Academy e la pubblichiamo lì ragazzi grazie di cuore un'ora e mezza come sempre super live tante informazioni utilissime non parole a bambere e ciance di ogni tipo va bene grazie di cuore e a presto ciao ragazzi buona serata ciao